Benvenuti amici, io sono Salopimpos, oggi siamo su OnlyApp versione Android Dopo aver terminato l'originale in live, sia su Twitch sia su TikTok Quindi se ancora non mi seguite, seguitemi anche lì, seguitemi anche in live Dopo aver terminato il gioco originale in live, andiamo a provare quello un po' clone per Android Però, devo dire che a prima vista, dico, non mi sembra così malaccio Il personaggio mi sembra anche più umanizzato rispetto all'originale Insomma, un po' squadrettato però Poi, tutti i PNG esattamente come sull'originale sono bloccati, imbalsamati Però, niente, noi iniziamo a scalare le vette Qui non vediamo effettivamente una fine come sull'originale Però da qualche parte arriveremo Quindi cominciamo a scalare E non so se c'è un sistema di salvataggio Ma spero tanto di sì E niente, cominciamo a scalare, ragazzi Quindi lasciate un bel like Un bel pollicione in su, ragazzi Mi raccomando Perché magari potremmo continuarlo successivamente Ah, c'è la modalità lumaca pure Molto lumaca Modalità rallenty Guarda là Figata Forse è uno dei migliori cloni per Android Di Holy Up, ovviamente Molto, molto carino Guarda quello che c'è là Allora, voi avete giocato l'originale Holy Up, ragazzi Oppure avete giocato solo i cloni tipo questo Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di Holy Up No, aggrappati, bravo Questo si aggrappa meglio dell'originale Clone fatto Però quando vola Cioè quando salta Eeeh Ha la gravità un po' strana È come se fosse sulla luna Praticamente Poi raccattiamo dei dollari Che non so a che cosa ci serviranno Però intanto li pigliamo Megatubi Perché c'è sto tubo gigante Potevamo prendere anche dal tubo Era una scorciatoia forse Prendo dritto per di qua Mi arampico Vediamo Forse dal tubo c'è una scorciatoia Io ho fatto Io ho allungato un po' la strada E allora via Via E si continua Ragazzi Oh Siamo arrivati Alla J&J Warehouse Company Tac Forse anche più facile dell'originale Prendo di qua Me la rientro E vediamo dove cacchio Dobbiamo andare Di qua che c'è Non c'è niente Ho delle scale Delle scale Saliamo le scale Fatto bene ragazzi Clone E devo dire fatto Benissimo Da qua emergo Oh per fai Emergo Clone è veramente fatto benissimo ragazzi E allora forza E si va Lì c'è una piattaforma Di salto E per andare a finire Dove No niente Lì c'è Da lì si continua Ma qui Tac È una specie di letto Que Guarda qui Quello che ho risparmiato Di strada Ho risparmiato Un sacco di strada Attiviamo La modalità Slow motion E saltiamo Ci arriva Di là Di là Ho fatto Perfetto E via E via Di qua Dove Mi sono perso Mi sono Ah dobbiamo salire Ho preso la strada sbagliata Dritto per dritto Dritto per dritto Gioco dell'anno ragazzi Questo è un gioco dell'anno Dritto per dritto Ho risparmiato Un po' di strada Ma attenzione Attenzione perché I salti sono un po' Moonjump Però Devo dire Fatto benissimo Allora Andiamo di qua Salve Chi si sta sposando Chi è la vittima Allora Allora Siamo qui riuniti Oggi Per celebrare Il matrimonio Di piantina sinistra E piantina destra Volete riunirvi E fare tanti semini Con la vostra Riproduzione Vabbè Lasciamo per Mi butto per di qua Tac Se cado ora Mi amma Ma perché Giusto Devo risalire in casa io In casa Ci sarà un modo Per tipo salire nel tetto Ma sempre da qui Però Non è che Posso fare altro Nella Invece Invece devo andare da qui Slow motion Per questo filo No vabbè Aspetta Io qua ci cado Ma come è fattibile Corri Non correre più Arampicati sul palo Vedi La cosa è fattibile però Se il gioco è fatto Per essere Giocato così Dovrebbe essere Fattibile Rimanere In equilibrio Su un palo Su un filo di luce O quantomeno Di bandierine Vabbè via Corri 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 Vedo che la precisione Comunque noto che la precisione Nei salti Nei controlli È molto migliore Rispetto all'originale Allora Se qui non ci andiamo Di slow motion Mi sa che non ce la faremo Ah c'è uno shop pure Chi l'aveva visto Possiamo shopparci le skin Io ho 280 dollari E vabbè Dico queste skin Che cacchio ho shoppato Mi sono shoppato La seconda Che brutta Ci aiuta lo slow motion Per andare Dov'è che dobbiamo andare Quindi via Corri come il vento Saltino E riecco Aggrappati Ciccio Arampicati No Arampicati Arampicati Oh Attenzione Attenzione 3 2 1 Via Pararap 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 Parararap Parararap Attenzione Attenzione Non ci cadiamo Non ci cadere Perché non sei saltato Perché non hai saltato Boom C'è una scorciatoia da prendere da ste parti Senta buon uomo Sull'i app originale C'è un ascensore che Ti permette di raggiungere metà gioco Praticamente Qui c'è qualcosa di simile Qualche scorciatoia Qualche ascensorino Che abbiamo qui? Furgoncini Campo da baseball FBI Un ascensore Ci sarà un ascensore segreto? Penso ci sia Come sull'originale No? Qui c'è una casa for sale Ma compro io E niente Mi sa che qui ascensori Non ne abbiamo Purtroppo Aggiungerei Dobbiamo rifarcela A piedi Dobbiamo rifarcelo A meno che c'è un lettino Un salterino Qua c'è qualcosa Una piattaforma di rimbalzo Che ci permette Oh mi cucino due waffle Che ci permette Di raggiungere nuovamente le vette Invece no Mi sa tanto di no Molto dettagliata Devo dire La città Gun store C'è di tutto C'è di tutto Allora là siamo su Dutet Wars Una piattaforma di salto No? Oh qui c'è qualcosa Eh vedi il tubo Prendo dal tubo Stavolta Vediamo Perché dal tubo Secondo me c'è una piccola Scorciatoia Vai ciccio Arampicati Arampica Con tutta la lentezza Dell'universo Prendo dai tubi Prendo dai dollari Che mi scioppo Le skin orribili Oh vedi Dai tubi C'è possibilità Di prendere scorciatoia Io devo salire di là Giusto? O anche di là Ma Se prendo da qua Da qui è molto più pericoloso Arampicati Ti stacco le mani Arampicati Oh vedi Da qui è fattibilissimo Prendiamo una scorciatoia Assurda da qui Tac Un lettino però Potreste anche mettercelo Tac Un'arrampicata alla volta Ci arrampichiamo Praticamente E via Tac Che fai? Che fai? Arampicati bene 37 metri Un saltino alla volta 43 metri Quanto manca ancora? E insomma Ah lì c'è una piattaforma Io devo andare di qua E raggiungiamo I 50 metri Praticamente 49 metri 53 metri 2 metri Oh E siamo tornati qua Attiviamo l'anticaduto E via Che salto Su il camioncino Arampico Molto Lo richiama molto L'iap originale Vabbè anche perché Questo si chiama L'iap Perché è normale Ma è fatto Veramente Veramente Bene Ragazzi Raggiungiamo Nuovamente La J&G La J&J Warehouse Se non cado Ora però E via Tac Ok E niente Non si è arrampicato Sulle bare Per questo ci sono andato A cadere io Normale Che se non si arrampica Ci andiamo a cadere Esattamente Come l'originale Quindi me la risbuco Da qua Dov'è il buco? Me la risbuco Da qua Me la risbuco Arampicati ciccio Dai E che cos'è Ha gli stessi problemi Dell'originale Non si arrampica Allora qui Avevamo la scorciatoia Quindi ottimo Ripiglio la scorciatoia Lettino Instant Se io riesco Ad atterrare sul filo Ci evitiamo la casa Tac Vai con la piglia Vai con la piglia Vai con la piglia Oh bravo Ci evitiamo la casa Ovviamente La chiesa Più che altro Quindi Molto Molto Lentamente Ci avviamo Nuovamente Verso La coffin dance E 3 2 1 Via Via Cerca di saltare Arrampicarti Però Per cortesia E via Oh vedi Ok Fermati ciccio Fermati Troppo Troppo Ok E Via Fatto Fatto Alleluia Dopo 8 ore Allora Cazupola Casupola Coscale Ci sono dei soldi Qua Sì 10 dollari Scrausi E continuiamo a salire Siamo a 180 metri Fatemi sapere A quanti metri Arrivate voi ragazzi In questo gioco ovviamente Provatelo Fatemi sapere Dove arrivate E se È difficile Quanto l'originale Ma dove cacchio Devo andare io Dove Ah tra i cessi Siamo a 172 metri Ci arriveremo a 180 No Però Ho trovato dei binari Che mi portano Eh Di nuovo lì praticamente Salta ciccio Non cadere ciccio Salta ciccio Oh di nuovo lì Perfetto E insomma Più si va avanti ovviamente Più è complicato Andare avanti E quindi Ci dobbiamo impegnare Sempre di più Se il tizio si arampicasse Però fatto fatto Ok pigliamo frigoriferi Pigliamo forni a microonde E mi butto Mi butto Perché sono una persona Orribile Ovviamente Quando gli spazi Sono stretti Per saltare Dovete attivare L'anticaduto Nel senso Il rallenti L'anticaduto è su Minecraft Eh Il rallenti Se non attivate il rallenti È un problema La cosa È molto problematico Quindi saltiamo Con tanto Non ce l'ho Anzi Sbattiamo le corna E mi arrampico Lo stesso Va bene così Tac Un passetto alla volta Ma rampi Un passetto alla volta Arrampicati Sul frigo Vai Tac Poi Forna a microonde Che cacchio fa Salto sul posto Io Perché Sono così A caso Sono forno Anà Vai Ok Forno Vai sul forno Ciccio Ok Lave un letto Ci sbalzerà in alto Anche qui il letto Probabile Salta Ok Prendo il letto No No Dove salire E prendo le scale Oh Vedi Delle scale Installate Nel vuoto Praticamente Chi non ce le ha In casa Delle scale Installate Nel vuoto Ovviamente tutti Quindi Andiamo da qua Non so se c'è un sistema Di checkpoint Ma non credo proprio Esattamente come L'originale Quindi se chiudete Il gioco Dovete rifare tutto Là c'è una pedana Se io riuscissi A prendere Quella pedana Prendiamo una scorciatoia E via Perché non si è buttato Si è buttato Si è buttato Via Prendo la pedana Vai che la piglio così La piglio La piglio La piglio Non l'allisciare Non l'allisciare Non l'allisciare Bravo No L'allisciata L'allisciata Clamorosamente pure E via Che se fate un errore Vi rifate tutto il gioco Esattamente come Su OnlyApp Originale Ragazzi Il clone è molto ben fatto Devo dire Molto carino Quindi eventualmente Ci possiamo ritornare In un prossimo video Per cercare di andare Un po' più avanti Quindi mi raccomando Se ci sono dei segreti Qui Da scovare Delle scorciatoie Qualcosa Fatemi sapere nei commenti E ovviamente Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Attivate la campanella E perciò è tutto Al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti